Così sembra, ormai i giochi sono fatti, il Consorzio Foggiano acquista la struttura ad Adelfia e lì ci trasferisce Padre Pio di Capurso, la sua struttura con i suoi dipendenti e il suo accreditamento. La struttura di Adelfia che ho lasciato nell'agosto del 2012 non ha più le autorizzazioni, è cambiata la legge sulle autorizzazioni delle case di riposo, adesso è passato nell'ambito regionale e quella struttura per essere riattivata è necessaria prima chiedere un parere di compatibilità e poi chiedere l'autorizzazione. Per cui è un contenitore, possono fare, comprare, affittare, bontà loro, per quanto mi riguarda quella struttura non è utilizzabile. Se dovessero confermarsi questi piani qual è la sua reazione? Se c'è un disegno per trasferire la mia attività ad altri soggetti, amici, compiacenti che hanno già manifestato l'intenzione, io mi cautelerò attraverso i miei legali se rileverò che ci sono gli estremi per adire e per denunziare. Intanto c'è il bando pubblico, la delibera è di ieri e questo l'ha fatto saltare sulla sedia? Io avevo già impugnato la delibera e il relativo bando al Consiglio di Stato, da istituzioni pubbliche, errori del genere, si fa un bando per tutelare l'occupazione di personale che è occupato ed è dipendente della mia società. Che non è fallita. Che non solo non è fallita, ma stiamo risolvendo il concordato proprio con tutto quello che noi avanziamo, abbiamo fatturato, all'Asli e alla Regione Puglia. Sarà la stessa Asli e alla Regione Puglia a mettere in bonus questa azienda che è andata in difficoltà per colpa esclusivamente loro. Detto questo, nel bando abbiamo letto dei nomi e dei cognomi dei suoi dipendenti. La cosa assurda, penso che manco nel Bangladesh, non so, in Africa. Ci scusiamo col Bangladesh e col Africa. In questo momento è possibile mai immaginare di occuparsi una istituzione che si preoccupa di collocare dei dipendenti che oggi sono in carico alla mia azienda, vengono pagati dalla mia azienda. Nessuno di loro ha manifestato l'intenzione di dimettersi. Anzi, ci sono in questo bando delle istigazioni verso il mio personale, eventualmente o totalmente o parzialmente, a dimettersi quando questa azienda ha già in corso. C'è una cessione di ramo d'azienda, stiamo aspettando il silenzio e radebimento del TAR, dove l'istituzione non ha adempiuto perché se avesse adempiuto questo personale sarebbe stato in carico ad una società che non avrebbe alcuni problemi di liquidità, nessun problema di difficoltà. Tra l'altro in questo bando ci sono dei nomi che non sono più vostri dipendenti e alcuni che sono adesso a lavoro non sono inclusi in quel bando. Io non so e non conosco e non ipotizzo la reazione che possono avere alcuni dei miei dipendenti vedersi inseriti in un bando quando loro non hanno manifestato alcuna intenzione di dimetterci né gli è stato garantito o assicurato la possibilità un domani di poter lavorare presso altre aziende. Grazie a tutti!